Bonjour a tous les mots, fringuelli! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un problema che ha Decathlon e che è un problema molto percepito, cioè quello della rivendibilità, ad esempio, di una bicicletta acquistata da Decathlon. Perché vi dico questo? Perché sotto i miei ultimi video ho letto tantissimi commenti fare riferimento a questo aspetto, cioè io compro una bicicletta, mettiamo compri la nuova RCR in versione top di gamma con super allestimento da 8000€. Arriverà un momento in cui vorrò rivenderla. Dice, a chi la rivendo? Questa è la domanda che si fa all'utente. Dove la rivendo? Da un negozio specializzato? Probabilmente no, perché me la sottovaluta. Oppure posso immetterla sul mercato dell'usato usando le piattaforme come eBay, Subito, il Marketplace di Facebook e cercare qualche d'uno che, come me, ne apprezzi il valore e la qualità. C'è un'altra soluzione che si sta diffondendo però in molti negozi Decathlon al di là dell'Italia, ovvero una sorta di permuta. In poche parole, in alcuni paesi dell'Unione Europea, Decathlon dà la possibilità al cliente che ha acquistato una bicicletta Decathlon e che vuole cambiarla, sostituendola con una nuova bicicletta Decathlon, di permutare il suo vecchio modello per l'acquisto di un nuovo modello Decathlon. Con questo meccanismo Decathlon va a sopravvalutare l'usato del cliente per permettergli l'acquisto di una nuova bicicletta. Con questo sistema Decathlon va a rispondere a questa domanda, cioè dove vado a vendere una bicicletta Decathlon usata se me ne voglio comprare un'altra? In sostanza te la ricompra Decathlon con una valutazione anche più alta del vero valore reale del mercato. È logico pensare che questa nuova politica delle permute dell'usato da parte di Decathlon prima o poi arriverà anche in Italia e potrebbe arrivare in Italia con il lancio dei nuovi modelli che vi ho presentato nei video precedenti. Con questa nuova politica di riacquisto che prima o poi speriamo arrivi anche in Italia, Decathlon dimostra di essere molto attenta alle esigenze dei propri clienti, rispondendo fondamentalmente a una domanda, cioè dove la rivendete una bicicletta Decathlon? Beh, la risposta è da Decathlon e questo, soprattutto ora con i nuovi modelli, vi dà la possibilità, quando arriverà ovviamente anche in Italia, se arriverà questa nuova politica, di poter comprare nuovi modelli anche più performanti rispetto alla vostra bicicletta spendendo nettamente meno. Ok? Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo aspetto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento e alla prossima. Ciao!